Amici, vicino a quei due funghi che vi ho mostrato nel video precedente, quello sotto la pietra, un po' mangiato e quello piccolino sotto, guardate, è una cosa impressionante, sono capitato proprio in una fungaia, questo è quello sotto la pietra, questo era quello sotto, questo l'ho trovato poco più a sinistra, infrascato in mezzo al mirtillo, guardate che bello, e poi, cerca cerca, mi hanno trovato ancora questo, guardate che meraviglia, questo, sono quattro, e poi il colpo di grazia, spero di non dover fare un altro video ancora, e poi, questi sono quelli che hanno, guardate, guardate che meraviglia, una bellezza impressionante, in stazione, una, in all'ora, in totale, sei porcini, in un metro quadro, bellissimo, davvero bello, caro Rambo, cominciano le mie fungaie, e ad oggi, sono dolori, guerra!